Sono Roberto Brambilla, sono della Cisco Data, siamo una società che è più di 40 anni che è sul campo, ci occupiamo di robotica applicata all'alimentare principalmente, poi al farmaceutico e al material handling e alla logistica. Principalmente lavoriamo con Comau e con ABB. Abbiamo delle applicazioni tipiche nel campo del pick and place, del packaging e della palettizzazione. Siamo una società dedicata per l'80-90% all'estero, abbiamo impianti da Los Angeles, la Svezia, Israele, la Turchia, l'Egitto. Quest'anno abbiamo portato a ET una novità di punta fatta in collaborazione con Comau che è una GV di nuova generazione, molto basso, che può lavorare sia in sollevamento dei pallet che in trascinamento di carrelli o cose di questo genere. Il sistema è molto flessibile e qua nella fiera facciamo vedere un asservimento, una serie di celle robotizzate che vengono servite dalla navetta portando e scaricando i pezzi. È stata una sfida perché siamo riusciti ad avere una buonissima collaborazione con diverse altre aziende, sia del settore che l'Initrophy e la coordinazione è stata molto buona, è migliorabile ancora, però è stata molto buona. Grazie a tutti.